e vorrei dire un'ultima battuta sulla vicenda di stanotte perché credo di aver realizzato adesso che stanotte mi sono sentito un niente di fronte all'immensità c'è un niente quanto tutto questo che io rappresento su questa terra questa barca sono un granello di polvere rispetto all'immenso che mi sta spingendo questo è l'immenso al 42esimo sud con tutta la sua potenza e la sua magnificenza